Primo caso sospetto di coronavirus in Italia. Una donna è stata ricoverata al Policlinico di Bari, sono in corso accertamenti, scatta il protocollo di sicurezza anche nell'aeroporto di Brindisi. A Brindisi proseguono i preparativi in vista dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia. Il Comune ha promosso una serie di iniziative collaterali all'evento. Questa è una città a vocazione sportiva, ha commentato il Sindaco Riccardo Rossi. Il Presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Corrado Tarantino, è stato ospite al noto show di Raiuno, I Soliti Gnoti. In diretta nazionale i video delle bellezze dell'Oa si protetta. Nel nuovo Teatro Verdi, Serena Autieri e Paolo Calabresi in scena con La Menzogna. Un cast d'eccezione, una commedia divertente che ha raccontato le infinite varianti sul tema del desiderio, del tradimento e della verità. Vittoria storica, ma restiamo con i piedi per terra. Così il Presidente della Virtus Francavilla, Antonio Magri, dopo la strepitosa vittoria di Reggio Calabria contro la Regina. Il massimo dirigente Biacazzurro invita i suoi a restare con i piedi per terra. Col Brindisi partita difficile, ma dobbiamo vincere assolutamente. Non ha dubbi, l'allenatore del Cerignola Vincenzo Feola ha intervenuto in diretta a Cento Sport Magazine su Studio Cento TV. Il tecnico ha parlato della gara in programma domenica prossima al Monterisi. Venerdì 24 gennaio, ben ritrovati, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Cento Notizie Brindisi che apriamo parlando con il sospetto caso di coronavirus, il virus che come sapete ha già portato a 25 decessi in Cina. Sospetto caso, è bene evidenziarlo, che si è verificato in Italia, che si sarebbe verificato in Italia. Anche se l'allarme appare già rientrato in attesa di notizie ufficiali da parte dell'ASL, visto che la vicenda si è verificata a Bari, è riguardato una donna che era appena atterrata all'aeroporto di Bari. Sono state disposte misure di sicurezza speciali anche per quanto riguarda gli scali aeroportuali, misure che hanno interessato ovviamente anche l'aeroporto di Brindisi. Era rientrata in Puglia dopo un tour musicale in Cina che aveva fatto tappa. Anche nella zona di Wuhan, qui i primi malesseri, febbre alta e tosse, i primi sospetti. Una cantante lirica della provincia di Bari non ha induggiato e si è presentata al policlinico, dove è scattato immediatamente il protocollo di allerta per evitare la diffusione del letale virus che in Cina ha già provocato 25 decessi. Inserata la nota del policlinico di Bari, positività per micoplasma. In base agli esami microbiologici effettuati è stata individuata una positività per micoplasma. Tale diagnosi, comunicano dal policlinico, è clinicamente compatibile con la sintomatologia presentata dalla paziente e non dissimile dalla malattia causata dal coronavirus. Si resta in attesa comunque, conclude la nota, degli ulteriori accertamenti in corso per la precisazione diagnostica definitiva. Immediatamente però è scattato il protocollo di sicurezza che ha coinvolto in particolare gli aeroporti di Bari e Brindisi. Sia chiaro, non bisogna creare alcun allarmismo, ma è bene che ci sia la giusta prudenza. In una nota, Aeroporti di Puglia chiarisce, con riferimento alla notizia di un caso di sospetta infezione da coronavirus su una paziente attualmente ricoverata in isolamento presso il policlinico di Bari, Aeroporti di Puglia comunica che negli scali di Bari e Brindisi sono state adottate le raccomandazioni previste dalle autorità sanitarie e regionali in ordine alla massima informativa su consigli e comportamenti da adottare a favore dei viaggiatori diretti o provenienti dall'area interessata. La cronaca ai carabinieri di Ceglie Messapica hanno arrestato un 52enne di Ceglie per detenzione abusiva di armi da sparo e ricettazione. Nello specifico i militari a seguito di un'attività di indagine per il contrasto ai furti nelle abitazioni, nelle aree rurali dei centri abitati della Valle d'Itria hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione presso l'abitazione e le pertinenze dell'uomo. L'attività di polizia giudiziaria è permessa un rinvenimento in un garage di due pistole prive di marca e matricole, nonché di elettrodomestici, quadri, attrezzi agricoli, elementi di arredo, gioielli e monilivari, penne pregiate, orologi, macchine fotografiche, tutto di provenienza furtiva. È in corso da parte degli stessi carabinieri la catalogazione della refurtiva per l'individuazione e la restituzione ai legittimi proprietari. L'uomo contestualmente è stato trovato in possesso della somma di circa 5 mila euro di cui non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Le pistole e quanto altro è stato sequestrato saranno restituiti ai legittimi proprietari nei prossimi giorni. L'arrestato a termine delle formalità di diritto è stato rimesso in libertà come disposto dall'autorità giudiziaria. Ritorneremo dopo alla cronaca, adesso invece parliamo di promozione del territorio e torniamo ad occuparci della tappa del Giro d'Italia che interesserà Brindisi. Ormai tra qualche mese è iniziato il conto alla rovescia ed è in pieno svolgimento tutto quello che il Comune di Brindisi ha inteso come iniziative collaterali organizzare per questo grande evento che appunto sarà importante per la promozione del territorio. Brindisino. Si continua a lavorare in vista della tappa del Giro d'Italia che il prossimo 16 maggio toccherà a Brindisi. In Puglia il Giro giungerà al termine della prima settimana grazie anche ad un sostegno economico della regione Puglia di 300 mila euro a cui si aggiungono i 100 mila investiti complessivamente da Brindisi, Giovinazzo e Vieste. Un'occasione importantissima per il territorio come ha evidenziato più volte il sindaco Riccardo Rossi. Sicuramente è una doppia valenza, una grande vitrina perché l'arrivo di tappa del Giro d'Italia ovviamente darà una grande visibilità a Brindisi, avviene anche di sabato, sabato 16 maggio, ci sono circa 191 i paesi collegati tra diretta e che poi mandano anche le immagini principali e quindi quelle dell'arrivo della tappa, quindi una grande occasione di visibilità, di promozione del territorio. E poi c'è un aspetto anche culturale sul quale noi puntiamo molto, si parla molto di mobilità sostenibile, di sostenibilità e la mobilità su due ruote sicuramente lo è, quindi la possibilità di promuovere il ciclismo, la possibilità di promuovere questa attività sportiva ma anche non sportiva, proprio culturale come modus di potersi muovere una città come Brindisi che lo offre praticamente tutto l'anno è anche importante, quindi abbiamo questo doppio aspetto, promozione del territorio e cultura della mobilità sostenibile che vogliamo incrociare. Come è noto la Castrovillari, Brindisi sarà una delle tappe della centotresima edizione del Giro d'Italia, la più importante manifestazione ciclistica nazionale, considerata anche una delle più dure al mondo. E Brindisi sta organizzando una serie di iniziative collaterali, nei giorni scorsi è stato in città anche il campione di ciclismo Claudio Chiappucci, ma le sorprese non sono finite. Beh la Puglia ha delle tradizioni con le gare comunque, perché di là che a Brindisi io non mi ricordo il passaggio come arrivo, se no di passaggio, comunque anche il Giro all'epoca, il Giro della Puglia e poi i tifosi, ho sempre trovato tantissimi tifosi, non siamo in un territorio dove il ciclismo è di casa, però quando arriva c'è un grande movimento, questo è bello, è bello da vedere perché il Giro d'Italia con tanta gente attorno fa una coreografia che è meravigliosa. Festa grande per il compleanno speciale di un cittadino ormai Brindisino che ha compiuto 100 anni, nato a Nardò nel gennaio del 1920, Carmine ha combattuto durante la seconda guerra mondiale, prendendo parte a diverse operazioni della marina militare italiana, era a bordo della corazzata, Caio Duilio quando l'11 novembre del 1940 la stessa subì l'attacco inglese nel porto di Taranto in cui persero la vita tre membri dell'equipaggio, è stato insignito della croce al merito di guerra e nel 2001 gli è stato conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica, vive a Brindisi dalla fine della guerra. Qui ha prestato servizio come ausiliario nella scuola fino al pensionamento, continuando poi a collaborare con lo SNALS fino al compimento di 90 anni, ha quattro figli, Vincenzo, Osvaldo, Giuseppina e Mirella, dai quali ha avuto otto nipoti. L'altra sera Carmine ha ricevuto la visita del primo cittadino, ecco stiamo vedendo alcune foto della festa per i 100 anni, dicevamo l'altra sera ha ricevuto la visita del primo cittadino di Brindisi, Riccardo Rossi, che gli ha donato una pergamena da parte dell'amministrazione comunale per questa importantissima ricorrenza. Tanti auguri dunque a Carmine. Torre Guaceto ancora protagonista a livello nazionale, protagonista in particolare su Rai 1. Il presidente del consorzio Corrado Tarantino è stato ospite del noto showgame di Rai 1, i soliti ignoti. E in diretta nazionale sono stati trasmessi i video dell'Oasi. A territorio brindisino. Nei giorni scorsi una ditta di monopoli ha completato i lavori per l'installazione di una boa di segnalamento marittimo, Cardinale Nord, nelle acque antistanti il porto di Villanova. L'installazione necessaria ai fini della sicurezza della navigazione è stata commissionata dall'amministrazione comunale di Ostuni su richiesta del titolare della delegazione di spiaggia del corpo delle capinerie di porto Guardia Costiera per tutelare i naviganti dai pericoli derivanti dalla presenza di una secca costituita da scogli affioranti e sommersi situata a circa 150 metri a est dell'imboccatura del porto di Villanova. La posa della boa rientra nel più ampio quadro di interventi finalizzati all'elevazione del livello di sicurezza delle acque del porto ed è stata possibile grazie all'intervento del primo nucleo subacquei del corpo delle capinerie di porto di San Benedetto del Tronto che ha svolto le operazioni della posa della boa. L'attività chiude il progetto iniziato lo scorso anno con il ripristino del funzionamento dei fanali rosso e verde che indicano l'ingresso del porto con relativa messa a stampa sul portolano e carte nautiche che contribuisce a garantire la sicurezza della navigazione portuale del porticciolo di Villanova di Ostuni per consentire ai naviganti di transitare in sicurezza in entrata e in uscita dal porto. Adesso una notizia di cronaca con un'altra operazione dei carabinieri. I militari di Villa Castelli hanno denunciato quattro persone di origini campane, una 57enne, una 46enne, un 36enne e un 29enne per fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. Nello specifico a conclusione delle indagini scaturite dalla querela che era stata sporta da un'agenzia di assicurazioni di Roma è stato accertato dai militari che i denunciati nel mese di aprile avevano simulato un sinistro stradale in provincia di Napoli a Casavatore per richiedere un rimborso assicurativo alla ditta, alla azienda di assicurazioni. È scattata immediatamente la denuncia. Adesso ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità, poi la seconda parte del nostro telegiornale, tra le altre cose ci occuperemo anche di sport. La linea va alla regia, curata oggi dalla sede di Brindisi da Dario Spagnolo con Alessandro Colavito in RVM. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora cronaca. I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale ed effettuato nel comune di Latiano hanno denunciato un 68enne di Francavilla Fontana per porto di oggetti atti ad offendere. Nell'auto è stata rinvenuta e sequestrata una mazza artigianale della lunghezza di 60 centimetri. Denunciato anche un 34enne di Francavilla Fontana per guida sotto l'influenza dell'alcol. È ancora denunciato in questo servizio straordinario di controllo del territorio un 33enne di Brindisi per trasgressione agli obblighi della libertà vigilata. Denunciati anche un 51enne, un 37enne entrambi di San Vito dei Normanni, un 20enne, un 21enne entrambi di Latiano e un 25enne di San Pancrazio Salentino. Questi ultimi tutti segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti, per uso personale in quanto trovati durante le perquisizioni domiciliari, veicolari e personali in possesso di marijuana per un totale di oltre 30 grammi. La droga è stata sottoposta a sequestro. Al termine del servizio sono state controllate in oltre 63 persone, 43 autoveicoli, 12 persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione. Effettuate anche 12 perquisizioni ed elevate 15 contravvenzioni. Questi controlli straordinari del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni. Nel nuovo Teatro Verdi di Brindisi, in scena Serena Autieri e Paolo Calabresi con La Menzogna, un cast di eccezione per uno spettacolo che ha avuto un grande successo. Serena Autieri e Paolo Calabresi in scena con La Menzogna, al nuovo Teatro Verdi di Brindisi, un cast d'eccezione, una commedia divertente che ha raccontato le infinite varianti sul tema del desiderio, del tradimento, della verità e della menzogna appunto. Per Serena Autieri è un ritorno sul palcoscenico del Verdi a tre anni di distanza dal musical Vacanze Romane che la vide protagonista con Attilio Fontana. Il Brindisi ovviamente la conosco per il teatro perché ci vengo sempre con gli spettacoli, è già la seconda volta sempre, insomma spero di tornarci ancora. E questo è un teatro stupendo, siamo venuti con Vacanze Romane quindi io conservo un ricordo incredibile e spero di tornarci ancora questa sera con La Menzogna, insomma è un teatro che accoglie, proprio è accogliente le grandi compagnie e quindi spero di tornarci con un altro grande spettacolo perché questo pubblico merita caloroso, attento, quindi stasera sono curiosa di sapere come reagiscono. Voglio sentirvi. Questo è uno spettacolo scritto magistralmente da Zeller proprio perché racconta la verità tra coppie che dopo un po' di anni non riescono più a stare insieme, comunque pur amandosi ma non riescono più a raccontarsi la verità appunto, devono trovare degli escamotaggi anche dei diversivi a volte sai, per poter vivere meglio, per poter trovare anche forse un'anima gemella che in quel momento ancora non sono riusciti a trovare. E quindi accade, accade anche questo e questa commedia fa riflettere, fa sorridere perché ci sono anche tanti momenti brillanti, comici, ma credo che lascia le coppie riflettere, qualche volta anche un po' discutere. Quando ci si mettono le donne sono molto più bravi, ci mettono un po' all'angolo e così finisce anche per questo protagonista il quale però poi alla fine c'è un piccolo graffio finale ma qui si parla di relazioni sentimentali e lì bisognerebbe scherzare meno. In questo caso bisognerebbe invece avere la forza, è chiaro che tutti ridiamo di situazioni storicamente, di situazioni come quelle dei tradimenti, l'incrocio eccetera, però poi alla fin fine ti accorgi che le relazioni vere sono quelle che si basano sulla onestà completa, sulla verità. Servizio straordinario di controllo del territorio anche ad Ostuni, protagonisti degli agenti del commissariato della Città Bianca. Nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 il commissariato ha effettuato appunto una serie di controlli eseguendo tre perquisizioni domiciliari nello specifico nei confronti di altrettanti pregiudicati del posto e sono state controllate complessivamente 234 persone e 94 veicoli. Un pluripregiudicato ostunese del 70, destinatario di un provvedimento di revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali firmato dal magistrato di sorveglianza, è stato arrestato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato l'avevano colto in possesso di circa 35 grammi di eroina che è stata sottoposta a sequestro. Dopo la redazione degli atti di rito, l'autorità giudiziaria competente ne aveva disposto la traduzione in carcere. Non solo, nel corso di un altro controllo, un cittadino stradiero è stato denunciato per il reato di inosservanza del decreto di espulsione dal territorio nazionale. Le attività di controllo hanno interessato anche un bar, una sala biliardo e un centro di raccolta scommesse, sempre di ostuni, presso cui sono state eseguite ispezioni e certamente amministrativi, i cui esiti sono al vaglio dei poliziotti. Apriamo la pagina dedicata allo sport, il calcio. Iniziamo dalla Serie C, la Virtus Francavilla con ancora negli occhi la straordinaria vittoria ottenuta nel turno in presettimanale contro la Regina, sul campo della Regina che fino ad oggi aveva vinto tutte le partite giocate al Granillo, si proietta verso i prossimi impegni. Il presidente Antonio Magri è entusiasta per questa affermazione, però invita i suoi a restare con i piedi per terra. È stato l'ennesimo appuntamento con la storia. La vittoria della Virtus Francavilla sul campo della Regina è destinata a restare per sempre nella mente dei tifosi bianco-azzurri. In sala stampa ha parlato il patron della Virtus, Antonio Magri. È stata una vittoria fantastica, ha detto il numero uno del club, ma adesso dobbiamo restare con i piedi per terra. Sicuramente è una vittoria storica perché la Regina credo avesse vinto tutte le partite in casa, quindi era sicuramente difficile fare punti in questo campo contro questa squadra. Io credo che comunque la Regina vincerà il campionato perché è una squadra forte, una squadra compatta, ci può stare qualche partita storta, ci può stare un momento di flessione in un campionato lungo come questo. Però credo che sia una squadra sicuramente forte che saprà capitalizzare il suo valore nel proseguio. Io sono qui per fare soprattutto i complimenti ai nostri ragazzi. La nostra è una squadra giovane, noi siamo una piccola società di un piccolo comune in provincia di Brindisi e la nostra è una squadra giovane. Oggi in campo c'erano quattro under. Devo dire che i ragazzi hanno dato tutto e penso che la vittoria sia assolutamente meritata per come è stata ottenuta. Anzi, c'è qualche episodio, credo che andrebbe anche rivisto, un fallo di mani che mi hanno detto che ci poteva essere un calcio di rigore. Quindi credo che i ragazzi abbiano assolutamente meritato. Sì, siamo stati bravi a non disunirci dopo il gol. Siamo rimasti in partita, abbiamo controllato bene perché chiaramente, ripeto, la differenza a livello di valore tecnico è inutile negarla, insomma c'era tutta e quindi potevamo soltanto compensare con grande tenacia, con grande impegno, con una grande volontà e voglia di portare a casa il risultato. Siamo stati bravi in quello e poi abbiamo approfittato delle occasioni che abbiamo avuto. credo che oltre, ripeto, alle reti fatte abbiamo avuto altre occasioni dove potevamo anche arrotondare il risultato, nonostante che la regina ha avuto anche le sue buone occasioni per poter rimettersi in carreggiata. Allora, il nostro obiettivo principale è quello di mantenere la categoria, quindi di salvarci il prima possibile. Dobbiamo fare un passo alla volta, dobbiamo prima cercare di ottenere la quota salvezza che credo sia intorno ai 42-44 punti e poi pensare eventualmente ai play-off. Ecco, non ci dobbiamo illudere che una partita possa spostare gli equilibri di una stagione. Passiamo al campionato di Serie D, in attesa e nella speranza che si faccia chiarezza all'interno della società del Brindisi, si prova a parlare di calcio giocato. Domenica prossima la formazione Bianca Azura farà visita alla corazzata Cerignola. Nella nostra trasmissione Centro Sport Mega si è intervenuto il tecnico del Cerignola, Vincenzo Feola, che ha detto chiaramente contro il Brindisi dobbiamo vincere, assolutamente. Quella col Brindisi sarà comunque una gara difficile, così Vincenzo Feola, tecnico del Cerignola Centro Sport Magazine su Studio Centro TV. Domenica scorsa è giunto il primo pareggio dopo una lunga serie di vittorie, ma non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. La partita è domenica prossima, dobbiamo vincere a tutti i costi. Aspetto come una partita che abbiamo fatto lì a Clumento, una squadra che ha bisogno di fare i punti, una squadra ben organizzata, che ha un brasone, una squadra che vorrà fare sicuramente bella figura contro il Cerignola, noi lo sappiamo e ci stiamo preparando per questa, lo sappiamo che il giorno di ritorno è tutto un altro campionato, lo sappiamo e le difficoltà ci stanno, ripeto l'analisi precedente è giustissima perché ci può stare, vediamo che tante squadre importanti faranno fatica pure a giocare fuori casa con squadre che si devono salvare, perciò ogni partita è sempre la più difficile, noi lo sappiamo e ci stiamo preparando. Il Cerignola non ha fatto mercato per quanto riguarda questa finestra di preparazione, almeno fino a queste due finestre di preparazione, almeno fino a questo momento, perché fondamentalmente questa squadra aveva già giocatori forti che però magari essendo arrivati in ritardo avevano bisogno un po' più di tempo per entrare in condizione, quindi la squadra c'è stata ma ha avuto bisogno un po' più di tempo per amalgamarsi? Una squadra, l'ho sempre detto a prima giornata che sono arrivato, è una squadra importante, una squadra forte, però il mercato, ho detto in precedenza, è la società che mi mette l'espressione, io alleno, quello che ho, quello che faccio, sono contentissimo di avere questo gruppo, l'unica cosa che mi dispiace è l'infortunio di Ziku che ci ha un po' penalizzati a livello numerico, perché manca un difensore proprio numericamente, non di qualità o pure di importanza, è proprio numericamente che ci manca, se la società riesce a fare quest'altro ultimo sforzo, se no andremo avanti così e ci giocheremo così fino alla fine, io non mi reclimino e non mi nascondo dietro nulla, però sicuramente con un difensore in più avremo una possibilità in più. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, parte tecnica curata da Dario Spagnolo in regia con Alessandro Colavito in RVM, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV. Spagnolo in regia con Alessandro Colavito in RVM, grazie per l'attenzione e buon proseguimento Spagnolo in RVM, grazie per l'attenzione e buon proseguimento